Per quanto riguarda le spiagge attrezzate invece aveva un'altra comunicazione da fare? No, allora lì si tratta solamente di una precisazione. Noi purtroppo ci stiamo trovando con la spiaggia di Capodorlando invasa da spiagge attrezzate. Si tratta di autorizzazioni stagionali che vengono date da parte del demanio che non sono condizionate da nostre valutazioni. E' chiaro che ciò per quest'anno avverrà ma noi altri ci stiamo premurando affinché venga attivato il PUDEM quindi il piano regolatore delle spiagge prima possibile per evitare di non dare alle persone che vogliono la spiaggia libera quegli spazi che sono necessari praticamente per la fruizione. Quindi dobbiamo purtroppo per quest'anno pazientare. E' chiaro che il territorio è nostro e dobbiamo essere noi a gestirlo. Con il PUDEM saremo noi altri a gestirlo. Noi dobbiamo distinguere i lidi dalle spiagge attrezzate. Cioè noi altri abbiamo dato indicazioni nella realizzazione del piano regolatore delle spiagge affinché rimanessero le spiagge che c'erano esistenti. Ed è questo un po' il nostro intento addirittura cercando anche di ridurre un po' gli spazi rispetto a quelli che ci sono. E questo vale sia per le spiagge attrezzate sia per i lidi. Poi nel piano regolatore esistono le spiagge attrezzate, c'è solamente ombrelloni, sdraio e poi esistono i lidi dove si può anche cucinare e si può anche ovviamente fare dal ristorante.